Il primo mandante, il mio primo cavallo di razza è un ragazzo giovanissimo dai gusti musicali molto black e molto soul e questa sera il primo brano l'ha scelto fra le hit del momento un brano intenso che richiede anche grandi doti interpretative oltre che tecniche con Take Me to Church, Lorenzo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!